Buongiorno a tutti, buon sabato, sto andando in campagna e sono molto molto contrarriata no, perché il tempo è bruttissimo, dai, volevo fare un weekend al sole ed è super nuvolo adesso sto facendo le scale mentre parlo con voi e probabilmente mi inciderò cadendo e vabbè, a parte questo, andrò lo stesso perché insomma vado con la mia famiglia, con gli amici e tutto però, diavolo, un po' di sole, non avrebbe fatto male, vero? guardate come bella la mia bambina e riprendi l'altra, sei proprio una stronza dopo aver trascorso una festa gioiosa con le sue figlie, Benedetta Parodi decide di cambiare i piani e di dirigere verso la campagna lasciando da parte l'idea di andare al mare a causa delle incerte condizioni meteorologiche pur desiderando il suono delle onde, sceglie la tranquillità dei paesaggi rurali nel frattempo non dimentica mai i suoi fan e condivide regolarmente nuove ricette veloci e gustose mantenendo viva la sua passione per la cucina anche in momenti di svago la giornata si trasforma così in un'occasione perfetta per rilassarsi, esplorare e preparare delizie culinarie con amore